In preparazione per il Senato dei Bishops per la nuova invocazione, il Pope ha autorizzato un'esposizione straordinaria della Shrouda di Turin. Le persone di Piedmont potranno vedere l'August 10, prima di iniziare un pilgrimaggio a Roma per visitare il Pope Francis. E' una rara opportunità di vedere uno dei relici più importanti della fede cattolica, la silhouette di un uomo che ha le stesse malattie che Gesù soffrava durante la Passione. Quindi, questi coaguli, queste croste che portano il Papa avevano, questi blood scabs, che il corpo ha il suo corpo è diluito e l'estimato tempo per creare questo fenomeno agrees con quello che vediamo con la Shrouda, tra 36 e 40 ore, la exacta quantità di tempo il corpo di Christ ha spento in questo sepulchre. La Shrouda è chiamata in una chapa, a la Cattedrale di Turin, e è only shown under straordinarie circostanze. It will be years before it can be viewed again. E amore è diritto per gli altri.